Matematicare è un'esperienza di tre giorni per l'apprendimento della matematica laboratoriale, rivolta agli insegnanti dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado. Attraverso la sperimentazione, la costruzione di modelli e la condivisione delle idee, il docente viene coinvolto in attività stimolanti volte ad arricchire la sua pratica pedagogica, attraverso un apprendimento più coinvolgente e accessibile a tutti. Le attività proposte sono immediatamente applicabili in classe, incoraggiano gli studenti a sviluppare soluzioni originali ai problemi e esprimere il proprio pensiero matematico in modo unico.